Ma che era sta fretta? Ma poi che posto è questo? Io ero a letto. Ti vedo stressato sti giorni, è per sta storia del Festival di Sanremo, vero? Sì, è per questa cosa di Sanremo. La gara. La gara, Lorenzo, dai. Parliamoci chiaro, arriviamo ultimi. Non arriviamo ultimi. E comunque Pasco è arrivato ultimo e fa gli stati. Sì, è ultimo, è arrivato secondo eppure lui fa gli stati. Ma che c'entra? Arriviamo quinti. E tu come fai a saperlo? Lo so. E dimmelo. Non te lo posso dire. Roba di Udc, massoneria, cavalieri di Malta. Cavalieri di Malta? Ho capito. E scusa, a questo punto tu sai chi arriva prima? No. Premio della critica? Aiello. Ultimo classico. Renga. Renga. Assurdo. Sta cambiando Sanremo. Sta cambiando Sanremo. Ma chi è? No, niente, mia zia. Però scusa, Lorenzo, ma questa cosa non me la potevi dire al telefono perché mi ha fatto venire fino a qua. Non era solo questo. E questo chi è? Il Deep Web. C'era un bel caminetto a casa? No. O no? Non ce l'ho. Una bella mensola? Una mensola, sì. Bella, non so. Perché? Lorenzo, ma che hai fatto? Ma questo è il premio di... Ciao, Lorenzo, scusa se ti mando sto messaggio, sono un po' in imbarazzo, ma volevo chiederti... Quando ieri sei andato via da casa mia, hai fatto caso se sul caminetto c'era ancora il premio di Sanremo?